Buttare via il cibo non è mai piaciuto a nessuno, vero? E allora ecco la grande idea, i contenitori sottovuoto, ma non contenitori qualsiasi, contenitori davvero di grandissima qualità. I contenitori sottovuoto garantiscono la perfetta conservazione di ogni alimento e questi in particolare sono stati studiati in maniera davvero incredibile. Le quattro alette per chiudere e naturalmente la valvola per poi riaprirle. Ne arrivano tre, il piccolo da mezzo litro, il medio da 1,4 e il grande da 1,7. Ma cominciamo subito e mettiamoci all'opera. Prepariamo qualcosa di gustoso e poi conserviamolo immediatamente. Chiudiamo le quattro alette laterali e con la pompetta in dotazione, dopo aver segnato con il datario il giorno in cui abbiamo cominciato a fare questo piccolo lavoro, togliamo tutta l'aria e per sapere se l'aria è stata veramente eliminata del tutto, basta guardare il coperchio che si è inclinato leggermente, vedete? Si è leggermente imbarcato e adesso possiamo conservare il nostro cibo per quanto? Uno, due, tre, quattro, cinque giorni, due settimane, tre settimane, un mese, quanto vorrete voi. Al momento opportuno basterà spingere naturalmente quel piccolo bottoncino, quella piccola valvola, l'aria rientra, voi potrete riaprire le quattro alette e guardate che meraviglia, sembrano appena preparate queste farfallette con tutte le verdurine fresche fresche e invece magari l'avete preparate una settimana o due fa. La stessa cosa per i pisellini, che siano cotti oppure no, l'importante è togliere l'aria perché il contenitore sottovuoto manterrà la fragranza e la freschezza di tutti i cibi e di tutti gli alimenti. Facile, vero? Per lavarli o sotto un getto d'acqua oppure naturalmente in lavastoviglie. E se volete congelare, niente di più facile. Con i nostri contenitori lo potete fare e addirittura subito e immediatamente potete metterli dentro il forno a microonde. Questo è molto importante perché i nostri contenitori resistono agli sbalzi termici passando da meno 20 del freezer a più 110 del microonde. E adesso, naturalmente, con la telefonata che state facendo, noi siamo in grado anche di dirvi grazie con un piccolo regalo, con le forbici da cucina a cinque lame. Sì, Giulia, Maria, Antonella, Claudia, amiche mie, vogliamo farvi un regalo perché siete le nostre care amiche della BNP. E allora, ecco la grande novità. Cinque lame. Sono meglio che una, vero? E con la nuova forbice a cinque lame voi potrete tagliare qualsiasi cosa. Sì, perché il loro utilizzo può estendersi all'ambiente domestico, alla cucina e anche all'ufficio. Chiamate subito perché questo è il regalo per tutte quante voi amiche che state chiamando e chiamerete, se non l'avete ancora già fatto, tra pochi secondi per ricevere il vostro set di contenitorio sottovuoto. Ricordo il piccolo da mezzo litro, il medio da 1,4, il grande da 1,7 e naturalmente anche la pompetta sottovuoto. Tutto questo per voi, amiche nostre di BNP. Come sempre, le migliori siete voi.